Dopo essere stata prorogata di due anni a causa della pandemia, la PAC, la politica agricola comune che l'Unione Europea si è data, riconoscendo al comparto agricolo un ruolo centrale per lo sviluppo equo e stabile dei Paesi membri, verrà rinnovata nel 2023. In vista di questa data, Coldiretti Giovani ha organizzato un tour itinerante per confrontarsi sul futuro dell'agricoltura. La tappa abruzzese oggi a Pescara. Oggi è una giornata di studi. Di cosa hanno bisogno gli agricoltori abruzzesi? Cosa stanno chiedendo? In questo momento l'agricoltura abruzzese, così come quella italiana, sta soffrendo moltissimo il caro bolletto e l'aumento dei costi di produzione. Quindi in questo momento c'è bisogno di aiutare a ridurre questi costi affinché si riesca a produrre. L'Italia è un'azione che produce, l'Abruzzo produce tantissimi prodotti di alta qualità. Che magari per produrle è necessario spendere un pochettino di più. Quindi i costi di produzione sono più alti. Se noi aumentiamo ulteriormente i costi di produzione rischiamo di non fare più le produzioni di qualità che invece sono una cosa che secondo me ci riescono meglio. Alla luce della guerra in corso, cosa cambia dal punto di vista delle direttive europee in questo momento? Abbiamo una riforma della politica agricola comune che dovrebbe partire il 1 gennaio del 2023. Però già alcune indicazioni che la Commissione europea ha dato sono già ormai vecchie rispetto al contesto attuale. Perciò siamo qui anche per discutere insieme a tutti i giovani agricoltori dell'Abruzzo per cercare anche di dare delle indicazioni alla Commissione europea. Alcune indicazioni sono già arrivate comunque dalla parte della Commissione europea con la possibilità già dal 2022 di coltivare i terreni a riposo e perciò anche andare in questa direzione di poter produrre di più proprio in fronte alla crisi. Sono cambiate molte cose perché non ci aspettavamo, nessuno poteva immaginarsi degli anni così difficili. Quindi anche nella programmazione di quella che è la politica agraria agricola comune dell'Unione europea ci sono stati degli accorgimenti, dei cambiamenti da fare su questa programmazione. I giovani di oggi si vedono in una situazione molto precaria come anche tutta l'economia e devono essere secondo me protagonisti invece di un rilancio.